Presidente, torna la paura? No, perché noi dobbiamo essere tranquilli, altrimenti andiamo in difficoltà, perché mentalmente credo che questa squadra non si renda conto che sta sotto e che ci deve mettere veramente tanto cuore, tanta forza e tanta determinazione per poter riuscire a riprendere quei 3-4 punti che ci servono per salvarci. Perché non ha continuità questa squadra secondo lei? Per mancanza di carattere, per mancanza che qualche giocatore, ne abbiamo troppo poco di giocatori che hanno la cazzimma, cioè quel tipo di cattiveria in mezzo al campo. Siamo una squadra che gioca a calcio, molto signore, poco determinata, quindi questi sono dei difetti che si spera possano passare il primo possibile. Gianna, Renate, due trasferte, lo spartiacque, visto che restano sette partite? Io non credo, io credo, noi dobbiamo pensare una cosa a fare 6 punti, lo facciamo a Gianna, lo facciamo a Renate, lo facciamo a Trieste, lo facciamo col Pordenone. L'impegno dovrà essere mentale, perché io penso che questa squadra essendo un attimino un po' debole mentalmente, credo che in questo momento tutti dobbiamo mettere le asce al loro posto, fare il tifo solo per il Teramo e a fine anno poi possiamo fare tutto quello che vogliamo gli uni contro gli altri, perché delle contestazioni purtroppo non aiutano. Tutte quelle squadre che lottano con noi credo che sono in questo momento molto molto avvantaggiato, perché? Non hanno pubblico, non hanno ambizioni, se ritornano in Serie D non hanno nessun tipo di problema. Diciamo le due squadre che forse, dove ci possono nascere contestazioni e quindi più tensione, rimini il Teramo. Quindi giocano con la testa non libera, di più, molto, e quindi qui dobbiamo essere bravi noi, dobbiamo essere, debbono essere bravi i nostri tifosi, attifare il loro Teramo. Ma ha un'identità questa squadra? Io penso che questa squadra ha un'identità ben definita, se tranquilla, con la testa. Questa squadra ha un problema di testa, è la paura che l'assilla. Se tu vedi domenica, credo che il gol che abbiamo preso, il primo, noi eravamo otto contro due. E quindi se poi andiamo a vedere chi ha sbagliato, hanno sbagliato più di un giocatore. Quindi dice, ma lì ha sbagliato il mister, penso che il mister se sbaglia, sbaglia peraltro, non in quell'occasione. Il secondo gol, purtroppo, barriera messa male, purtroppo un infortunio del nostro portiere, che ci sta in questo momento, però non ci dovrebbe essere. Perché in questo momento bisogna cacciare le famose palle. Ho parlato l'ultima volta questa mattina con l'allenatore, il quale ci crede fermamente, perché ho voluto sentire anche l'umore suo, l'umore del capitano, un po' di tutti. E quindi noi ci dobbiamo credere. Però, insomma, questa squadra per valori tecnici vale di più della classifica? Questa squadra è, rispetto alle squadre precedenti, la più forte che noi negli ultimi tre anni abbiamo avuto. Ma dico anche di più. Questa squadra, rispetto all'anno scorso, perché anche tu vedo che vuoi fare quelle domandine a trabocchetto, e tra poco ci vogliono una razioncina anche per te. In questo periodo noi abbiamo fatto molti punti più quest'anno rispetto all'anno scorso. Se poi vai a vedere i tre gironi che ci sono in Italia, il girone B oggi è uno dei gironi dove noi... Questo che cosa c'entra? Che questa squadra è più competitiva, l'anno scorso non era competitivo. Ma è competitivo di più anche tutto il girone. È vero che Maurizzi ha già la conferma in tasca per il prossimo anno? Perché questo è un altro punto interrogativo. Si dice... Ma no, è vero. È ufficiale, quindi? È ufficiale, sì. Però non è una questione adesso di Maurizzi, di Campitelli. Oggi parliamo... Ma era una curiosità, Presidente. E la curiosità io non è che posso non nascondere, perché se è stato fatto il contratto a Maurizzi, a Maurizzi penso che Maurizzi, in quel periodo in cui lo abbiamo fatto, lo meritasse. Perché portava una media punti pari a 1.6 rispetto allo 0,60 che avevamo con Sichella. Quindi credo che lo meritasse. Se vincevamo domenica con la Virtus Verona, oggi qui si parlava di playoff. Oggi qui eravamo tanto felici. E quindi era un altro pensiero. Quindi Maurizzi bravo, Campitelli bravino. Invece, giustamente, i tifosi... Io sono il primo tifoso, quindi nessuno può dire quello che penso io. Cioè io vorrei togliere tutti i calciatori, cacciare l'allenatore, togliere a te, chiunque. Così si fa quando si perde, no? Presidente, lei è simpatico. Non c'entra niente il risultato, se avesse vinto, no. Questa squadra con Maurizzi non ha un'identità, ma non è che ce l'avesse prima. Non ce l'ha mai avuta quest'anno. Secondo me è una squadra forte che meriterebbe un'altra classifica. Tutto qui. Però è solo un mio punto di vista. A me mi fai felice se dici questo, però alla fine stiamo congiati male anche quest'anno. L'ultima invece la faccio su eventuali sviluppi societari, perché si è parlato di un ingresso di questo imprenditore credo romano, non ricordo neanche il nome, però insomma se ne è parlato in questi giorni, in queste settimane. A che punto siamo? Noi la società non è che la diamo gratis, quindi non è quello il problema. Se poi chi viene a comprare, forse nel calcio c'è una cosa, ma trovo che in dialetto li solda, ok? Allora, chi li solda si può fare tutto, ma non a me, io non li voglio, perché io darò sempre un contributo grandissimo. Quindi ci sono solo chiacchiere. Bene, chiacchiere, ne sono tanti. È veramente un orgoglio che questa squadra sia ancora in C. Spero che prima o poi possa arrivare qualcuno che acquisti il 100% del Teramo, perché ho capito un'altra cosa, che se tu in una società la spacchi troppo ci sono ancora più casini per poter andare avanti, perché poi diventa anche lì un grosso problema. Quindi speriamo che a Teramo venga qualche imprenditore, ma non adesso, perché noi adesso dobbiamo pensare alla salvezza, adesso può venire, noi ne parliamo, però noi oggi dobbiamo dare sicurezza alla squadra. Quello che voglio dire ai tifosi, stiamo tutti vicini, perché questa squadra ne ha veramente bisogno, perché purtroppo è una squadra come tutte le squadre, che quando perdi, perdi anche l'identità come ben dici tu e tutto il resto. Anche perché non sempre si può vincere come si è fatto a Bergamo, su questo siamo d'accordo. Sì, ma con la Fermana se vincevamo 2 o 3 a 0 non avevamo rubato niente. Quindi, siccome noi quest'anno la fortuna non l'abbiamo avuta mai, domenica siamo stati ben fortunati, ma abbiamo perso anche Gomis, che insomma è un grande gesto da parte della società e del Presidente Campitelli. Gli ho sempre fatti. Però è una rarità in questo mondo, lo posso dire. Se lì non parlava il ragazzo, noi qui sono sempre accaduti questi gesti e fin quando noi ci saremo lo faremo, perché un ragazzo che si importunia, la prima cosa da fare è rinnovare il contratto. È un gesto nella normalità, perché questi ragazzi hanno famiglia, hanno figli. È un ragazzo che si importuna e che poi può darsi che ha bisogno di 5, 6, 7, 8 mesi. Cosa mangiano? Non è che hanno dietro, sono contratti che vanno a finire. Diciamo adesso c'è la cassa muta, loro non hanno niente. Quindi il primo gesto da fare è un ragazzo come Gomis o come altri, perché noi l'abbiamo sempre fatto e fin quando io farò questo lo faremo sempre. Le fa onore. Complimenti Presidente e in bocca al lupo per questo finale di stagione. Grazie a te. Grazie a te.